cari figlioli salve ben ritrovati abbiamo finalmente un nuovo glitch sì perché da quando c'è stato l'ultimo aggiornamento di due giorni fa più o meno appena dopo hanno scoperto non si sa chi come perché io non ci credo tanto però è stato introdotto un nuovo glitch un modo per guadagnare all'incirca 5 milioni di crediti in 15 20 secondi quindi se vi interessa seguitemi se anche voi siete loschi e malfattori che volete soldi facili come me allora prima di tutto figlioli dobbiamo andare in eventi e cercare due progetti che sono stati inseriti da due autori sconosciuti a me sconosciuti io l'ho già inseriti tra i miei preferiti vi consiglio di farlo anche voi anzi facciamo così cancello questi ok rimuovi ok gli altri li ho cancellato quindi questi due figlioli ve li mettete tra i preferiti e ogni volta dovrete fare una cosa estremamente semplice ascoltatemi un secondo questa qui dovete avviarla quando vi dice di scegliere la macchina tornate indietro semplicemente e avviate questa in un modo normalissimo tutto qua facciamoli insieme ovviamente quindi scegliamo questa ci dice di selezionare una macchina e noi torniamo indietro io ho la tastiera e schiaccio es che torna indietro e ritorniamo esattamente dove eravamo prima torniamo di nuovo nel menu centro creativo progetti torniamo nei nostri preferiti e questa volta selezioniamo l'altra quindi 4 milioni di crediti in 30 secondi vai cosa scegliamo scegliamo modalità cooperativa che secondo me è quella che ci dà qualcosa di più vi consiglio di scegliere una macchina force edition scegliete quella che volete però queste qui vi danno un pochettino di più quello che sta davanti a me figlioli sta aspettando che qualcuno crei un evento come sto facendo io perché potete o crearlo voi o unirvi e ovviamente essendo un glitch sicuramente verrà pacciato solitamente durano boh quanto una decina di giorni non di più quindi se volete approfittatene ora come funziona questo glitch figlioli beh ve lo spiego molto semplicemente in pratica abbiamo due mappe una che è eterna lunghissima 50 giri e che quindi verrà pagata molto bene e un'altra che veramente molto corta che guarda caso ha il traguardo vicino alla partenza della nostra mappa guardate secondo il computer noi faremo tutto questa mappa qua in realtà abbiamo il traguardo a pochissimi metri di distanza frutto della seconda mappa in pratica abbiamo mixato due mappe di due scusate due tracciati diversi ed eccoci qua partiamo vediamo di partire adesso guardate già nella mini mappa vediamo che il traguardo ce l'abbiamo qui alla nostra sinistra figlioli eccolo qua giriamo da questa parte ok è qui anche se non si vede c'è il traguardo ok siamo arrivati figlioli durato veramente pochissimo ed eccoli qui figlioli guardate 5 milioni e 300 guadagnati una manciata di secondi beh devo di sì ho vinto anche qualcos'altro stai zitto guardate i livelli figlioli veramente si sale su di tanti 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 di quei livelli e si guadagnano davvero tantissime ruote della fortuna quindi veramente meglio di una mano dal cielo cioè guardate quanti livelli sto prendendo guardate quanti livelli sto prendendo ho rifatto il giro ovviamente sta a voi se scegliere di guadagnare soldi così facilmente oppure continuare a tribulare come è giusto che sia io comunque ve l'ho portato per informazione perché qualcuno mi chiedeva come faccio a guadagnare soldi facilmente e devo dire che questo questo glice è cascato a fagiolo ho una super ruota grazie e vabbè dai ci potevo andare anche un attimo meglio ma io sapete non sono mai fortunato nelle ruote cari figlioli spero che questo glice vi piaccia mi raccomando lasciate un bel like e condividete se volete iscrivetevi al canale ciao a tutti